Come da noi anticipato nell'edizione del Tg delle ore 14 di ieri, vengono effettuati altri tagli alla sanità erpina. Il commissario dell'azienda Moschati, Giuseppe Rosato, questa mattina conferma, mentre lunedì il piano ospedaliero arriva in consiglio provinciale. Nell'ambito di una rete dell'emergenza, che viene ad essere codificata su un bacino più ampio, che è quello della macroarea Sannio-Ispinia-Sannio, c'è una distribuzione, nell'ambito dei due ospedali di riferimento, DEA di secondo livello, di centri hub diversificati. Per cui il Moschati, che ha un centro hub per le emergenze gascentrologiche, ormai da decine di anni consolidato di un'attività, viene riconosciuto come centro SPOC, mentre il RUM come centro hub. Questa naturalmente è una penalizzazione, che sicuramente dovrebbe essere corretta, perché ci sono volumi di attività che la nostra gascentrologia fa e, diciamo, supporto a moltissime emergenze notturne gascentrologiche della nostra provincia e delle province vicini ori, per cui questa penalizzazione non trova giustificazione. Stesso tipo di discorso si può fare per quanto riguarda lo SPOC di secondo livello della terapia del dolore. Noi teniamo una struttura con dieci posti letto, che fa una quantità di attività enorme, anche interventistica, quindi ci vogliono per forza i posti letto. Veniamo riconosciuti SPOC di secondo livello come il RUM e, in realtà, fondamentalmente, noi abbiamo tutti i requisiti per poter essere un centro hub. Anche in questo caso possiamo parlare di una penalizzazione della nostra azienda. Lo stesso vale per l'emergenza pediatrica, dove l'emergenza pediatrica viene riconosciuta al rumbo di Benevento e non viene riconosciuta al Moscati di Avellino. Dimentichiamo che l'ospedale Moscati di Avellino è l'unico ospedale nuovo, prettamente a norma in questa regione, e che dovrebbe essere potenziato e visto con rispetto. La famosa eccellenza che in queste condizioni va a farsi benedire, commissario. Non ce lo dobbiamo dire noi che siamo un'eccellenza, ce lo devono dire gli altri e ce lo devono dimostrare.